Francesco, Francesco è morto! Sei triste Bernardone, coraggio! È morto solo come un cane, perché io, io ci sono andato a vedere il mio povero figliolo, perché voi, voi non ci sareste andati a vedere un figlio che muore? Lui che andava di casa in casa a chiedere la carità, lui che poteva avere tutto, lui il figlio di Bernardone, che vergogna! Ma lui, cecciosa, lui poteva avere tutto, lo capisci? Ma è morto, che era felice! Felice, felice, ma cosa vuoi sapere, tu cecciosa della felicità, dimmi un po', cosa vuoi sapere? E pensare, eh? E pensare che tutti mi dicevano, ma cosa fai a non lasciarlo andare? Perché lo fai uscire di casa? Stagli dietro, vedrai che torna! E' facile dare consigli, eh? E' facile giudicare dopo! Vindiconti, io e sua madre, santa donna, l'abbiamo cresciuto, ormai eri in grado di fare le sue scelte! E poi? E poi, sua madre diceva sempre, vedrai, per perdone, non ti arrabbiare, vedrai che gli passa, gli passa, eh, gli passa! Lo sentivamo alla sera, chiuso nella sua stanza, che parlava, 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 con chi parlava poi? E allora, incuriositi, ci avvicinavamo pianino, pianino alla porta, ad ascoltare. E sai cosa faceva Francesco? Eh, lo sai? Prega! Prega! E beh, e allora cosa gli vai a dire a un figlio così? Noi gliel'abbiamo forse insegnato noi a pregare? Perché voi non gliel'insegnate ai vostri figli a dire le preghiere alla sera, alla mattina? Hai visto, eh? Hai visto come va a finire, eh? Perché da piccoli bisogna pregare, da grandi invece! Ma io non ci capisco più niente, io, senciosa, guarda, non capisco più niente. E Francesco, ma io, tu l'hai capito, guardi, tu l'hai capito! Ma, beh, tutti dicono, sta stita cenciosa, che tanto non capisci nulla! Ma questa volta, anche tu, Bernardone, non hai capito tanto. Io, Francesco, l'ho visto spesso, sai, e ogni volta sorrideva, anche quando lo hanno maltrattato. E allora, e allora io ho capito, ho capito, che lui voleva così, lui era felice, anche così. Perché io l'ho vista, sai, nei suoi occhi, c'era la bontà, la dolcezza. E poi lui non me l'ha mai detto che non capisco niente. Francesco è morto, ma era felice, Bernardone, sono tutti felici, vedi, sono tutti felici. Ah sì, perché dicono che adesso Francesco sta anche meglio, perché poi... E allora? E allora anch'io sono felice, vedi, Bernardone, anch'io sono felice. Forse, per perdone, per non piangere, forse, forse dentro di lui c'è qualcosa di grande, qualcosa di troppo grande. E noi?